Allora stasera stiamo con Consalo e Veronica. Volete spiegare a tutti perché siete venuti dal Cile? Che siete venuti a fare qua dal Cile? Dove si trova il Cile? Alla dell'Argentina. Ma dove si trova l'Argentina? Sud America? Sud America? Per mangiare che cosa? La pizza Fiocco. Quella originale però. Vogliamo fare un saluto. Salutiamo a Vito Jacopelli. Il maestro. Grazie YouTube. Grazie. Siete grandi. Grazie ragazzi.